ed eccoci qui ragazzi come sempre ben tornati da avianato a nuovo episodio di questa serie di robo universalis 4 con la moda imperium universalis e finalmente mi sono deciso a fare una guerra bella sostanziosa ma giusto per divertirsi non è proprio il massimo della strategia però insomma ci voleva perché fare guerre a paese a paeselli che schiacciavamo senza grossi problemi non è che è proprio il massimo del divertimento a questo punto non possiamo andare avanti purtroppo dobbiamo lasciare da soli i nostri vassalli lì a che gli hanno non l'hanno presa che dovremmo liberarsi cosa ok li andiamo qua sulla capitale cartaginese a sto punto quel vassallo ce lo stanno distruggendo alla buone meglio io mi allargherei un attimo ho ben capito alla fine quelle piccole truppe che fine hanno fatto del nostro nemico che stava la a livello numerico le abbiamo sderenati non poco io l'unica cosa è fenicia che vorrei buttare fuori da sta guerra ma non gliene può fregare meno di uscire gli erami stanno qua in giro che fanno danni che ne ho preso un bel po' rom occupied sicus diciamo che a sto punto io farei una bella linea un'altra volta vediamo se riusciamo a beccarli stavolta eh sono cinquantamila eh quindi dov'è lì dov'è qui eh mosso pure quelli non volevo pazienza ok ti vieni qua mi stavo assediando la capitale fatto nooo non volevo certo dargli una mano coi ribelli però mi sono nati sotto i piedi democratic rebels ok arriva la democrazia esportiamo democrazia nei regni africani ok portiamo qua gli amici l'abbiamo chiusi ok fammi vedere lo scappimo ma lì oh oh ok andiamo sulla capitale ma ok perdo un po' di soldi sediamo la capitale cartaginese qui mi stanno contro assediando io mi avrei via almeno un pezzo di spagna vieni qua e si continua a rompere le palle lì ok comunque i massigli ormai si stanno facendo male eh ok qua abbiamo liberato finalmente quindi ammazziamo questi no guarda come la odio sta cosa di Europa Universalis che cade praticamente in maniera temporizzata e forte eh nel momento in cui lo sto per liberare è odiosa sta cosa vediamo se riusciamo a riprendercelo subito qui si menano perfetto ok qualche core è finito stanno finendo altri qui ci vorrà un po' ma sì lì ormai è allo streno io a sto punto ne approfitterei e mi distendo sui nostri nemici magari non così ma così vediamo un po' che succede ok si sono ripresi in qualcosa lì c'è stato un'altra volta i massili che rientrano niente lì non riesco a liberare ci vuole un po' di tempo allora navi oh guarda quei venti allora tu portati qua e tu portati qua quindi andiamo un po' ad ah ma non è la capitale cartaginese quella sono un baccalano la capitale è un altro 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 sei un grandissimo eh ma sì si è di nuovo riformata lì beh di questi non è che mi interessi particolarmente vieni via vediamo la pausa ok è caduta anche lì abbiamo democrazia ok vediamo se riusciamo a liberarci di questi massivi che vanno vengono vanno vengono tornano scappano ormai ci dovremmo stare ok qui è caduto quindi andiamo vediamo se riusciamo a prenderci un po' di costa allora lì l'abbiamo liberata quindi andiamo pure qua vediamo se scappa l'ha presa vedete come mi sposto la prendono non sempre così lì ha non so come fa temporizzare la grande uh abbiamo finito addirittura i conti chissà da quanto tempo allora prendiamo questa prendiamo questa e prendiamo questa possiamo fare qualche riforma ban ban direi non adesso non il momento di guerra ma appena si può lo facciamo siamo all'aerlo 16 quindi il prossimo ci dà pure le idee l'altra volta dovrei far cadere di nuovo quella che coglioni l'altra volta l'altra volta l'altra volta Atria andiamo avanti qui abbiamo perso qualcosa però non ne abbiamo bisogno ricopriamo i soldi ok andiamo a bloccare quel porto a sto punto magari velocizziamo un attimino la caduta di questa provincia vediamo se dopo di questo riusciamo a fare sta pace anche perché il manpower è quasi andato quindi fermi tutti 82% perché mai è così ma perché c'è la capitale cartaginese qui no e perché diavolo ma stia mentira ma perché diavolo costano così tanto vabbè arriviamo qua a Barsa è già una cosa facciamo pace poi faremo guerra qualcuno ci può fare una collezione contro ma saremo in pace contro tutti quindi abbiamo trovato dentro questi 1 2 2 3 ok massilia qualche problemino ce l'ha avuto tu vieni qua andiamo di fare sta cacchio di cosa ok due province ma è stato bello più alto fare la guerra contro tutti gli africani qua ok tu vai qui tu vai qui tu vieni da qua atlantico atlantico ok ok e c'ho le navi solo 96 ne abbiamo perso un bel po' ah no stanno là atlantico e l'oceano vediamo ok ok comunque sono riuscito a fare una bella espansione ai danni di queste iberiche quanto ci abbiamo adesso di ora nel frattempo si sono le ha di Tapsus e di Fenicia quanto ci abbiamo di tregua di tregua 408 6 anni si stanno annettendo Malaha Malaha pazienza noi stiamo annettendo quell'altra invece ok il grosso del gruppo lo riportiamo in Italia stiamo andando in Italia con 60.000 uomini quindi abbiamo dei problemi di pure sostiano ma ci abbassa l'assolutismo quindi non lo usiamo la cosa qui abbiamo dei ribelli perché non li va a prendere non saprei perfetto ok mettiamoci metà da una parte metà dall'altra rincori quando arriva questa ok vediamo di stabilità bestax che qua come va che piano si azzerà credo allora avevamo i club i club i club diventano vediamo se rompono le balle si quindi gli dobbiamo dare qualcosa ok stavo dicendo potremmo costruire per la resta in verità c'era qualcosa costruiamo questi che sono unici che probabilmente serviranno per qualche motivo questo già ce l'abbiamo mit library logo dal resto vabbè costruiamolo un po' mettiamo a costruire un po' di roba perfetto ok io direi che siamo un bel po' avanti quindi toglierei gli amici come va a livello di ok la cuore sostegna è quasi rientrata i core sono quasi entrati questi continuano a salire c'ho uno che mi aiuta per il resto capisco che ci dà lo splendore che non è male poi c'avevo band e slurry che abbassa il resto e qui come va quasi azzerata perfetto quindi con quest'altro core che entra quando entra giugno 403 quindi qualche mese ancora ci siamo ok azzerato conversione riuscita ok tregua finita a sto punto io direi magari cominciamo a rilavorarci un po' di gente qua tributario stanno già sotto qualcuno tributario questo è un macello mi se po' tributario questa no di averli no tributario 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 penso che può bastare il momento andiamo un bel po' poi mettiamo in ordine di amore autonomus passo alfa autonomus e non autonomus appena rientra questo però a sto punto brevici e gli apotes fanno sempre guerra ok quella è andata ho preso un po' di stabilità che è meglio a sto punto non posso perché sono in guerra sono in guerra finito il tempo questa nave la portiamo ad ostia sti uomini li capiamo a livello esercito sto molto sopra ma alla fine non riesco ad averne molti di più quella è la cosa strana allora questi che sono in guerra chi sono sono sempre questi sono loro questi brevici prima o poi li devo lanci la ok accumulate money addirittura 2204 prestigio e gel stile vassalize tacapess sicuramente me lo da via guerra vabbè tacapess è una di quelle che ho liberato prima con una di quelle guerre ho i punti al massimo potrei fare gli state andiamo un po' facciamo questo e chiudiamo l'episodio ok sicilia ok facciamo anche i core facciamo la sicilia facciamo anche i core nord sicilia la sicilia è andata ora cominciamo con la parte sauiarda ok andiamo avanti perfetto ok l'arco alpino abbiamo fatto ok facciamo pure la corsica nazionalizziamo tutto nazionalizziamo qui ok penso che a 500 punti ci possiamo fermare poi ci vogliono 12 seggi 12 seggi e qualcuno richiede un po' gli equites richiedono di avere almeno il 4% quindi diamo cose a caso agli equites penso anche loro roba militare la miliare è tutta una chiavica perfetto gli equites adesso dobbiamo fare 29 12 ma c'è un modo per dare seggi velocemente non lo so questa cosa dovremmo vedere a livello non lo so vabbè peschiamo tutte le coste lo metto così ok Pompei Napoli ce l'avevo già fatto Pirna Posedonia Bosento Blanda Cosenzia Temps Ipponium Medna Region Region Locroi Locride Sildetium Crotone Ci possiamo fermare Qua perché non posso farla Ah ci sono ho fatto uno stato di cui non posso farne correre perché sono in guerra contro uno che ha interesse in questa zona vabbè qui abbiamo risolto tutti i grossi problemi io direi di fare altre conversioni stiamo velocità 4 probabilmente a sto punto dobbiamo andare a dare la mano guarda i breuci con cui siamo in guerra se lo liberasse male non gli farebbe ah no sono nemici questi ok andiamo giù dai breuci guardate i breuci che ne ho fatto bene dai fai stessi ma perché te ne vai scada pure questa andiamo ai breuci se arriva al 190 possiamo pure vassalizzarle e teoricamente non dovrebbe essere impossibile ma che do mostri si pigliano territori ricorca altra conversione è andata non ce l'ha mai convertuto c'è uno 4 ok sono finiti perdiamo il vizio e ci dimentichiamo non è non è in pace questa ecco questa ma sono tutti in guerra stanno questo yes e questo yes prossimo è tutti i vassalli adesso alfa autonomos alfa autonomos dobbiamo ecco noi siamo sono incartato scusate ma allora macello Alfa Autonomous Ok Quindi sono tutti Alfa Autonomous Tutto Alfa Autonomous Ma dobbiamo scegliere chi portarci dentro Allora cominciamo da Qui Non Autonomous Abbiamo un po' di main power dentro E' altissimo Non Autonomous Che è successo? Qua ho fatto la Non Autonomous Disattributo all'istate Alfa Autonomous Passa Adesso c'è i tributari che ora hanno finito la palla della guerra? No Facciamo tre Ok Ma c'è uno solo Perfetto Alfa Autonomous Conti Ok C'ho questo non autonomo e lo annettiamo C'ho questo non autonomo e lo annettiamo Quindi messo a annettere questi due Penso che me posso fermare, no? Sto mi chiamando relazioni con i due che mi sto annettendo Non è proprio una cosa molto 35 La prossima vado di idee di quantità perché devo migliorare l'esercito Non c'è niente da fare Non manca molto a quanto pare E io direi di chiudere perché sono posto l'episodio Ci allarghiamo E dura troppo Fermiamo Vi ringrazio ragazzi come sempre Per l'attenzione Da Roma è tutto Noi ci vediamo nei prossimi episodi